Musica Si sta realizzando a Bageria, così come concordato con l'assessorato alla salute e il dipartimento dell'Asp, le giornate di screening con tamponi rapidi, nelle giornate di sabato e domenica 14 e 15. C'è stata una buona organizzazione, ringrazio i volontari della consulta giovanile, la Croce Rossa, il dipartimento prevenzione di Bageria, il direttore del distretto, la polizia municipale e tutti gli operatori. Anche la popolazione ha collaborato, a breve avremo i dati definitivi e complessivi che poi comunicheremo alla città. Il sistema sta funzionando abbastanza bene attraverso un sistema di pronotazione online, quindi tutte le persone che sono venute qui già erano registrate, ci sono i ragazzi che si occupano della consegna dei moduli e poi ci sono i medici dell'Asp che effettuano il tampone. Dopo 20 minuti si è il risultato del tampone rapido, a coloro i quali risultano positivi viene effettuato il molecolare e quindi poi vanno in isolamento. Ora mi chiamiamo. Il ragazzo va a chiamare. Il ragazzo va a chiamare. Tu stiamo facendo i 15 giorni. Il giorno è il 30 giorni. Così. Il ragazzo va a chiamare. Così. Così. Che precedes. Lo scelta.